Stiamo parlando del Poliporus squamosus fungo molto profumato cresce a cespi sui tronchi tagliati da giovane è un ottimo commestibile da vecchio si si traccia devo mangiare cosa è inutile oggi abbiamo fatto niente di stronzare questo hobby dei funghi al momento che ho rubato la carne perché non mi ricordo che è una passione secondo me è una delle più grosse stronzate allora è venuta 5 da mattina fa tanti chilometri fa qualcosa mezzo kg di fungo ma non è meglio che uno sia cattato ma quando sapessero vendere un pochino io non lo so ero si va a cattare ero si va a cattare e avevo frutti vedi ho detto tutto ho detto tutto grande camillo camillo che si appresta a fare che si appresta a fare Grazie a tutti.